Salve ragazzi oggi siamo ancora qui su StumbleGuys. Riproviamo a giocare forse avremo un po' più di fortuna. Incominciamo! Riproviamo a giocare. O finalmente! Riproviamo a giocare. Riproviamo a giocare. Grazie. Grazie. E via anche questa fatta. Grazie. Grazie. Riproviamo ma adesso traiardo. Grazie. 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 Ci vediamo la prossima volta, adios!